Corra Fattori, quali sono le motivazioni che l'hanno spinta a candidarsi? Le motivazioni sono una grande passione e un amore profondo che ho per la città e per la politica. E uno dirà come l'ultima arrivata in politica, forse quella meno politica, in un periodo in cui della politica si dice peste e corna, può sembrare strana come dichiarazione. Però io penso che la politica sia molto bella, se la fai in un certo modo. Hai lati brutti? Sì, ce li hai. Inevitabile, lo sappiamo, li conosciamo. Però è anche vero che se noi la parte brutta della politica era quella di restare distanti, perché veniva vista come una cosa chiusa. In parte lo è, però penso di poter dimostrare con la mia storia e con quello che ho fatto che in realtà se tu vuoi qualcosa, ti prepari, fai sacrifici, perché niente viene regalato, però puoi entrare e dire la tua in modo corretto, trasparente e questo è un grande stimolo. Mi è sempre piaciuto non lamentarmi e basta, fare. Se c'è una cosa che non va bene, ho voglia di metterla a posto, non riesco a subire passivamente i processi e questa è una cosa che è stata determinante. Che cosa vorrebbe Perfano e su quali temi in particolare si concentrerà? Perfano vorrei che proseguisse in un percorso di miglioramento. Secondo me è stato fatto tanto, ma tanto deve essere ancora fatto. Perfano è una città che ha grandissime potenzialità, però attenzione, noi andiamo incontro a un periodo molto difficile, sarà un periodo duro per tutti. Chi regala, promette, Marie Monti, non credeteci, sarà difficile, bisognerà rimboccarsi le maniche. Quello che io voglio perfano è una città che sia capace di rimboccarsi le maniche, mettere a valore quello che ha. Abbiamo tanto, non a caso nella nostra città è nato un comparto di intelligenze che lavora su quello che è un settore strategico per noi adesso, che è l'energia. Dovremmo mettere a valore questo. Ci sono tanti altri aspetti, da quello culturale, sociale. È un complesso, non sono aspetti separati tra loro. Vanno affrontati in maniera seria, pragmatica e operativa. Insomma, noi con, io dico sempre scherzando, con una fava non devo prendere due piccioni, devo prendere dieci perché dobbiamo portare il massimo risultato alla città. Primari sì o primari no? Beh, considerando che mi candido alle primarie, direi primari sì. Primari sì è stata una riflessione anche quella, capisco chi è contrario. Dal mio punto di vista, dopo dieci anni di governo, adesso ci sono diverse realtà politiche. ognuna parla ad un pezzo di città e tutti i pezzi di città sono importanti. Adesso stiamo andando verso il costruire una proposta politica nuova, perché quella di dieci anni fa, per quanto valida, ha dieci anni. E quindi cosa dobbiamo fare? Con delle primarie che siano costruttive, non distruttive, se no non andiamo da nessuna parte, ma parlando con i miei colleghi ho capito che saranno tali, collaborare insieme e andare verso quella che è la formazione di un nuovo progetto. Quindi primarie sì, perché ci aiuteranno in questo percorso. E alla fine di questo percorso decideremo qual è il nostro colore, poi ognuno darà la sua sfumatura.